Ciao ragazze, eccoci qua. Questo è un video di anticipazione, alcune di voi già lo sanno perché lo avevo già annunciato in uno scorso video, in merito a un prossimo giveaway che arriverà tra breve. Io ho già pronto un regalino per voi ma in questo video vi chiederò la vostra collaborazione perché vi farò vedere alcuni accessori e quindi sarete voi con il vostro commento a dirmi quale vi piace di più in modo che io poi lo possa inserire insieme al premio. Quindi niente, adesso io ve li faccio vedere e poi dopo ne riparleremo alla fine del video. Allora, vediamo quali sono questi accessori, ok? Vi dico subito che questi li ho acquistati a Doha, nel Qatar e mi piaceva l'idea di inserire qualcosa che fosse un po' particolare, quindi che magari qui in Italia è un po' più difficile da trovare. Quindi adesso ve li faccio vedere subito. Parto con questi, sono due, questo è il primo, guardate com'è carino. Questa è diciamo una coroncina che va ad adornare la fronte, ha due mollettine dentro, quindi si infilano qui e la coroncina praticamente scende su tutta la fronte. È veramente ma veramente carina e quindi uno è così e e questo è l'altro disegno, quindi questo ha questi tre cerchi con quello centrale più grande. Poi, questo bellissimo bracciale, ne avete visto uno simile, questo va ad adornare tutta la mano e come si vede si congiunge ad un anello in cima, argentato, con tutti i diamantini bianchi. È veramente ma veramente bello, è molto ma molto elegante. Poi, vi faccio vedere anche questo. Guardate com'è simpatico questo anellino, si muove tutto, ha i colori del corallo e sembra un corallo infatti. E' veramente ma veramente carino, ve lo faccio vedere più da vicino. Eccolo qua. Poi, questo ticca, non so se ne avete mai visto uno, questo è veramente carino, questo invece è dorato. Ecco qua, con tutti i diamantini. E anche questo ha una piccola grappettina in cima, perché è fatta apposta. Ora se ce la faccio, vi metto una foto in cui vedete come torna, come si portano i ticca. Quindi praticamente va agganciato qui, fra i capelli, e anche questo scende sulla fronte, fino a congiungersi con l'attaccatura fra le due sopracciglia. Anche questo molto ma molto carino, non è molto sfarzoso, come di solito portano magari le indiane. Quindi molto molto carino da portare anche questo in una serata particolare. Questa bellissima collana, eccola qua. La catenina è molto fine, lunga, e in fondo abbiamo questo bellissimo pavone con tutta la sua piuma e i suoi bellissimi colori. Eccoli qua, questa è una collana, come vi dicevo, fine, sono di quelle molto lunghe, quindi il pavone andrà ad adornare la vostra vita, ma è molto molto bella. E poi, eccole qua, anche queste sono simili, ma cambia il colore. Queste invece, come vedete dal disegnino che c'è in copertina, vanno ad adornare invece i vostri capelli, o di lato o dietro. Anche questi hanno due mollette sui lati, che vi permettono di poterlo fissare dove volete. E anche questi sono veramente, ma veramente belli, si possono mettere sia con i capelli sciolti, ma molto belli anche proprio con un'acconciatura. Guardate quanto è bello, questi con i colori del viola scuro, ha questo cuore più grande, che si congiunge a questo più piccolo. Eccolo qua. E quest'altro è simile, cambia il disegno però. Eccolo qua. Questo diciamo è proprio uguale al disegnino della copertina. E poi, per ultimo, questa ciocca di capelli. Non so se si vede il colore, ma sono circa 60 cm di capelli. È una ciocchetta, sempre con una mollettina, color prugna, vi dicevo. Che niente, voi la potrete inserire insieme ai vostri capelli, quindi la potrete lasciare lunga con una coda, potete fare un'acconciatura, potete anche tagliarla della stessa lunghezza dei vostri capelli. Quindi, insomma, la potrete giostrare a vostro piacimento. Niente, quindi una volta visto il premio, adesso vi spiego un attimo cosa dovete fare. Allora ragazze, adesso tocca a voi. Fatemi sapere sotto questo video qual è l'accessorio che vi è piaciuto di più. Mi raccomando, un commento a persona. E se siete indecisi tra due accessori, mettete sotto lo stesso commento il nome di tutti e due. Poi comunque, io alla fine, l'accessorio che sarà più menzionato da voi, entrerà a far parte del premio del prossimo giveaway. Quando ci sarà il prossimo giveaway, non appena questo video, raggiungerà almeno mille visualizzazioni. Quindi intanto io vi mando un bacio grande e come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!